...quadra a centimetri, a forza, a coraggio, e sono riusciti ancora una volta... ...perpeccato come che dice questa squadra a centimetri e inquadrano il negro qua... ...un ball di velocità e potenza, splendida lento... ...le due squadre si sono studiate lungo... ...i su press start, Big Beach... ...ora vediamo se adesso...